Ciao a tutti ragazzi! Io sono Francesco e vi do il benvenuto a questo nuovo video. Oggi non sarò da solo, ma sarò accompagnato dalla mia bellissima nipotina Aurora. Ciao! Rory, vuoi far vedere cosa ti ha regalato Papua Natale? Super Mario Lego! Ebbene sì, dovete sapere che Papua Natale ha regalato ad Aurora il set Lego di Super Mario. Ma non solo, abbiamo anche il costume da pinguino. Oggi lo andremo a costruire insieme, è vero Rory? Sì! Sei pronta? Sì! Cominciamo! Allora, all'interno della confezione abbiamo... Una, due, tre, quattro, cinque e sei buste di pezzi Il libricino con le istruzioni di montaggio E un pacchettino che contiene, vediamo un po' Vai Rory, aprilo tu, vediamo cosa contiene il pacchettino Il corpo di Super Mario Sei contenta Patati? Sì Bene ragazzi, direi che è tutto pronto Rory tu sei pronta? Sì Cominciamo 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 Oh si è acceso Cominciamo 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 Comino Cominciamo Cominciamo Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.